Una delle skills attualmente più richieste in assoluto è programmazione e codice e con questa app puoi iniziare in modo semplice e gratuito L'ho sempre detto con lo smartphone potete fare un sacco di foto e video pazzeschi e con questa applicazione con un semplice click potete realizzare degli effetti proprio che mamma mia non ve lo sto neanche a raccontare Top e se volete wallpaper o comunque siete alla ricerca di wallpaper fighi interessanti per le vostre personalizzazioni e non solo ho anche delle soluzioni per voi Ma non perdiamoci in troppe ghiacchiere mettetevi belli comodi io qui ho i miei dispositivi e oggi vi spiego un po' di applicazioni super interessanti e come lo faccio? Semplice ve lo spiego in poche parole venite con me Allora ragazzi iniziamo subito belli gasati io qui ho una bella lista con un po' di informazioni e la prima applicazione di oggi è proprio quella che vi permette di realizzare un po' di effetti particolari Nello specifico è disponibile purtroppo solo per iOS vi lascerò soluzioni per Android sempre in descrizione ma nello specifico parliamo di Dizzi Dizzi è un'applicazione che ho scoperto veramente a caso ragazzi super piacevole da utilizzare molto bella esteticamente devo essere sincero con voi Non è completamente gratuita ma sinceramente non ho neanche capito quello che vi sblocca la modalità pagamento perché è veramente bella completa anche appunto senza abbonamenti E che cosa vi permette di fare? Beh ve l'ho detto vi permette di aggiungere degli effetti a foto che magari avete già effettuato avete già scattato Vi faccio vedere qualche esempio così a schermo veramente molto interessanti in particolare un po' vivaci ma soprattutto vi permette di registrare dei video E vi permette di scattare delle foto perfette e con effetti particolari per le storie e non solo Nello specifico qui in basso vedete foto 3D con quell'effetto un po' interessante Face track che mi sta facendo un po' impazzire ed è perfetto anche un po' per fare no? Quelle cose un po' stile da TikTok ecco Poi abbiamo il dolly zoom, il time play, il boomerang, doppia cam Veramente ragazzi potete divertirvi un sacco con questa applicazione e mi piace proprio per la sua semplicità Ve lo dico ci sono solo due cose che mi hanno fatto un po' così pensare Ci mette un po' di tempo nel diciamo fare le cose Comunque ci pensa a volte però le fa bene quindi state tranquilli E due non avete paura quando diciamo state esportando se ci mette per l'appunto sempre un bel po' di tempo È proprio l'elaborazione che l'applicazione fa però vi permette di avere un contenuto ben realizzato Poi ovviamente dipende un po' dallo smartphone però comunque devo dire che è un'app che mi è piaciuta E mi è piaciuta anche veramente tanto Ma adesso andiamo subito alle cose che vi piacciono perché lo so e voglio andare subito al punto O meglio wallpaper Oggi vi voglio far vedere due applicazioni per wallpaper super interessanti Una ovviamente per Android e l'altra per iOS Partiamo da Android dai partiamo da Android così facciamo una e uno no? Che ci stai? Questa applicazione mi piace perché è proprio figa esteticamente Si chiama Nothing But Wallpaper E devo dire che è bella realizzata Ci sono un sacco di soluzioni, ci sono un sacco di wallpaper E potete infatti accedere a una lista veramente non dico infinita ma bella ricca E in questo caso abbiamo uno stile che sapete bene essere particolarmente di mio gradimento Nello specifico abbiamo dei wallpaper un po' flat Che si avvicinano molto a quello che è poi il mio stile O comunque i wallpaper che poi vi condivido che vado a realizzare io Piccola parentesi, se volete il wallpaper della copertina O del video, delle clip che state vedendo Li trovate sul mio profilo Telegram Sulla mia pagina Telegram dove vi dicarico anche appunto i miei wallpaper Quelli che disegno io, molto belli Sono un po' lento però ci sta Detto questo, belli poi, ve lo dico io Vabbè, comunque Detto questo, io da questa parte vi dico che è veramente fatta molto bene Potete scaricare, mettere nei preferiti il vostro wallpaper preferito per l'appunto Scegliere il wallpaper da determinate categorie E quindi bella completa, un po' solito Ve la consiglio comunque, è gratuita quindi ci sta Potrebbe essere super interessante per trovare qualcosa di nuovo Mentre per quanto riguarda iOS vi consiglio Wallpapers HD Mamma mia, la fantasia dei nomi proprio non sto qui neanche a dirvelo Però figa perché non avete categorie Non avete niente di niente Quello che dovete fare è swipare e scoprire wallpaper Sono di buona qualità, devo dire la verità Sono veramente molto piacevoli E che cosa potete fare? Potete già avere un piccolo, diciamo, feedback Comunque potete vedere già più o meno come potrebbe essere Ecco l'applicazione, con quello sfondo, con le applicazioni E potete salvare il wallpaper per poi impostarlo E poi potete aggiungere un livello di opacità Basta Semplicissima come app Ma mi piace proprio per questa semplicità E poi non trovate mai o comunque nell'ultimo periodo Non specifico una settimana Non mi è mai capitato di trovare sempre gli stessi wallpaper Quindi ci sta a provo Veramente mi piace Molto semplice, è veramente minimal Però ci sta Mentre come quarta applicazione voglio consigliarvi Questa volta sia per Android che per iOS Codigo Che cos'è? Semplicissimo Codigo è un'app che vi permette di iniziare a masticare Di imparare un po' del codice Non aspettatevi nello specifico un'applicazione completamente gratuita Qui prendete, vi fa un po' assaggiare Se poi vi piace potete effettuare un abbonamento Ma mi piace proprio per la semplicità e l'approccio che utilizza nello studio Voi scegliete il linguaggio che volete iniziare a masticare Se possiamo dire, io ho iniziato con il linguaggio C Che dovrebbe essere quello base Anche se i miei amici programmatori come per esempio Vittorio Vittorio stai guardando questo video? Commenta, dandoci magari qualche dritta Mi dicono che è fatta bene Ma c'è di meglio Potrebbe esserci di meglio Però secondo me gratuitamente così ben fatta E in italiano soprattutto È difficile Detto questo Magari vi lascio qualche altra soluzione Che cosa vi mettete di fare? Beh, vi, diciamo, insegna qualcosa E ci sono diversi tutorial Dovete applicare un pochettino la cosa E devo dire che è fatta molto bene Ovviamente in italiano Questa è una cosa che so Essere, diciamo, importante per molti di voi E quindi nulla Provatela perché è figa È fatta bene E per iniziare ci potrebbe stare Poi se poi vi prende tantissimo Potete effettuare l'abbonamento Che non è male Imparare non è mai sbagliato Detto questo Andiamo avanti E la quinta di oggi invece è Love I love pdf Un'app che Anche qui Ma come un po' tutte le app ragazzi Ultimamente Questo Ve lo rifaccio questo discorso Si stanno evolvendo molto le app Quindi a prescindere all'interno di quelle fatte bene C'è sempre qualcosa a pagamento Questa Vi permette di fare un sacco di cose gratuite E ve la consiglio Perché cosa vi permette di gestire? Lo dice il nome I love pdf Quindi i pdf E devo dire che è molto comoda Io ultimamente Ho diversi pdf Da lavorare Leggere Aprire Modificare Convertire Oppure word Devo convertire in pdf Cose standard Con questa app Lo faccio in maniera super semplice Voi avete una cartella dedicata ai file Una dedicata agli strumenti Qui vedete un sacco di possibilità Immagina pdf Word in pdf Excel in pdf Eccetera eccetera Potete poi elaborare anche un pdf In word In excel In powerpoint In jpeg Potete fare un sacco di cose Ed è una cosa che mi piace Avere tutto in un'applicazione ci sta Poi avete anche lo scanner Quindi veramente super comodo Se non volete utilizzare app Come per esempio le note di apple Se non avete un Se non avete un iphone Oppure avete già altre applicazioni Questa potrebbe essere un'app Che vi rinchiude un pochettino tutto In una singola applicazione E mi piace Ambito lavorativo Ci potrebbe stare La sesta invece è Boomerang Sono sincero Ragazzi sono veramente sincero Ci spendo infatti due secondi Non l'avevo mai visto Un'applicazione del genere Non l'avevo mai vista questa applicazione Sull'app store O sul google play Però sta di fatto Che potrebbe essere figa Perché che cosa vi permette di fare Vi permette di realizzare Dei boomerang Per instagram E ovviamente non solo E perché è figa Perché non dovete andare su instagram Fare uno swipe Andare nelle storie Cambiare modalità E prendere un boomerang Ma dovete semplicemente Registrare E il gioco è fatto Poi potete salvarla Oppure ricondividerla In maniera istantanea E ci sta Perché se volete fare qualcosa Di un attimino diverso Oppure volete mettere Che ne sono orizzontale Per un video Per una cosa Potrebbe essere particolarmente figo Interessante da utilizzare Quindi Ve la consiglio Assolutamente Sì E si utilizza facilmente Voi tappate E fate il boomerang Con uno swipe Poi passate da fotocamera Anteriore a posteriore E stop Top Ve la consiglio Infatti ve l'ho detto Due secondi E ce ne andiamo E andiamo dove? Andiamo verso Palette Sì Palette 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 Penso di sì Ma vabbè Questa è un'applicazione Fighissima Di uno youtuber Che seguo particolarmente E che cosa vi permette Di fare? Beh Permette di trovare Ispirazione per le vostre Personalizzazioni Android E non solo Perché non solo vi mostra Delle personalizzazioni Ma vi fa vedere anche Il launcher Che utilizza Quindi potete magari Aggiornarvi un pochettino E scoprire Launcher che magari Non conoscete Potete scoprire Dei Diciamo Widget KVGT E non solo Iconpack E wallpaper Quindi è un'app Che va a raggruppare Un po' tutto E mi piace Semplice ad utilizzare Gratuita Ma realizzata Veramente molto molto bene Abbiamo appunto Categorie Guide Quindi veramente top Mi piace tanto 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 Ed è un'app Che mi sarebbe Proprio piaciuta Diciamo Realizzare Non si dice così Forse Mamma mia Non riesco a parlare più Fatto un esame Mi sento un po' Sciocchino Ma vabbè Andiamo avanti Ve la consiglio Comunque gratuita Trovate il link In descrizione Detto questo Traduttore vocale Sempre per Android Eh Non ho posato Però vabbè Questa è un'app Figa Perché vi permette Di tradurre Ma anche dei vocali Quindi che ne so State ascoltando Un video Un qualcosa State parlando Siete in giro Mettete questa applicazione Fate parlare E vi arriva il coso In maniera automatica La traduzione In maniera automatica Lo fanno anche altre app Sì Questa secondo me Però lo fa leggermente meglio E mi piace Come applicazione Per questa ve la consiglio Potrebbe essere Molto molto comoda Anche per allenare Un po' l'inglese E quindi Ci sa La provo La sto utilizzando Anche per il mio Libricino Perché sto cercando Di approfondire un po' Questo discorso d'inglese E mi stanno dando Un grosso aiuto Ve la consiglio Gratuita anche questa qui Disponibile però Purtroppo solo Per Android Da quello che ho visto Poi se trovo qualche soluzione Vi lascio qualcosa Anche per IOS Molto bella come applicazione Veramente semplicissima Non voglio perdermi troppe ghiacchiere Sulle app semplici Ragazzi Serve per tradurre Fa quello che deve fare Lo fa bene Ve la consiglio Veramente top Andando avanti Vi parlo adesso Di TicTic Questa è un'app Che ho utilizzato Sto utilizzando Ma che Mi piace Perché ha un sacco di cose Partiamo dai pro Ha un sacco di feature Ha un sacco di cose fighe Perché potete vedere Le vostre cose da fare Sul calendario Da smartphone Potete monitorare Diciamo Le vostre abitudini Potete creare delle categorie Sotto categorie Di categorie Ma Il ma più grosso È che è Veramente Molto Ma molto Complessa Cioè Non è un'app Che voi Attivate O comunque Scaricate E potete utilizzare subito Ci dovete perdere Un po' di tempo Almeno secondo me Non è Non è un problema Di user experience Ma è un problema Di troppe funzioni Ci sono veramente Un sacco di cose Che potremmo stare qui Infatti a parlarne per ore C'è la possibilità Di effettuare Un abbonamento Che vi sblocca Il calendario La compatibilità Con tutti i calendari Vi sblocca Un sacco di cose Che non mi ricordo Vediamo un po' Ecco qui Appunto il calendario Abbiamo una timeline Più memoria Quindi potete condividere il tutto Potete gestire Con il metodo pomodoro Unlimited planning Avete dei temi nuovi Ci sono un sacco di funzioni In più ancora Ma sinceramente Ho anche provato L'abbonamento Però Allora Per le to do list La provo Mi piace Ed è per questa Che l'ho messa Prendeteci un po' la mano Ma vi sa dare Delle soddisfazioni Per quanto riguarda Le to do list Per tutto il resto Però Forse un po' Troppo ricca di funzioni Ma se siete Smanettoni Quanto me Siete amanti Della produttività Quest'app Dovete provarla Poi Ne parleremo Sul secondo canale Ovvio Ovvio Cioè proprio ovvio Mentre Andando avanti Stavo prendendo lui Ma non ce n'è bisogno Perché siamo arrivati Verso la fine Secondo quelli che sono i miei calcoli Andiamo a vedere un attimo Nella lista Sì E l'ultima è Day One Diario personale Questa è un'app Molto carina Che vi inserisco Perché Va diciamo Di pari passo Con un'app Che vi ho consigliato Nel precedente video Dicata alle app Che tra l'altro è andato benissimo Io vi ringrazio Un bacione a tutti Siete spettacolari Ma comunque È un'app Che mi permette di Avere un diario personale Molto bella Sapete bene Che ci tengo Questo discorso relativo Al Diciamo Non mi viene mai il nome Journaling Ecco E questa app Mi permette di fare Le cose nel migliore dei modi Insieme anche all'altra Sono quelle Diciamo che preferisco In questo caso Potete aggiungere Del testo Delle immagini Delle foto Dirette Cioè scattare direttamente da qui Potete aggiungere Delle visioni sul calendario E potete scansionare Del testo Quello che invece Non vi permette di fare È aggiungere video PDF Audio E disegnare Però sono funzioni Che potete sbloccare Con Diciamo La modalità Premium Va fatta? Secondo me No Cioè Ha poco senso Questa è un'app App appunto Diario Quindi la cosa principale Deve essere proprio La scrittura E mi piace Mi piace come è fatta Perché è molto semplice Voi potete aggiungere Direttamente Una nota Quello che pensate Durante quella giornata Una cosa che vi piace Che affronteremo Anche in questo caso Il secondo canale E mi piace Questa sensazione Diciamo Di libertà Che ti dà proprio L'applicazione È semplicissimo Voi aggiungete il testo E poi lui Ve lo sincronizza Direttamente con il giorno In cui avete scritto Il tutto Non so se sono stato chiaro Ma è un diario personale Molto bello Ma digitale E che approvo Al 100% Secondo me Dovreste averlo Tutti Detto questo Amici miei Io direi che per oggi È praticamente tutto Vi ho detto tutto Io vi ringrazio Come sempre Per tutto il supporto E nulla Ci vediamo prossimamente Con un nuovo video Vi sto bombardando Con i gadget Ma ho un sacco Di chicche fighe E se volete Spoiler Sempre sul secondo canale Lo so Però è lì Che escono gli unboxing È tutto Detto questo Ci vediamo prossimamente Con un nuovo video Preparatevi Stanno arrivando un sacco di chicche E stiamo avvicinando Anche No non ve lo dico Non ve lo dico Non ve lo dico Samsung Non si dice Te lo dico eh Che bello Non vedo l'ora Non vedo l'ora Mua